bella a tutti i fourniters benvenuti e bentrovati su youtube eccoci in questo video per andare a vedere i negozi oggetti di oggi 6 dicembre iniziamo con armadietto zelphi ombra ammantata ali d'ombra come dorso depurativo icone ascia del drago poi abbiamo il deltaplano carrossa di cristallo molto carino emote baldoria e copertura gran fiocco poi abbiamo catwoman ariana grande rubius stile distintivo sono gli stessi ieri più fosca fiaba con o senza cappello e poi abbiamo il dorso decorativo l'iter del branco poi abbiamo anfibio acquatico con quattro stili carina questa skin bella anche le colorazioni e poi il dorso decorativo bombole anfibie poi abbiamo l'emote a viso aperto glitter una vita al massimo incrocio poi abbiamo il deltaplano predecessori e la skin vertex con il suo dorso decorativo deflettore poi abbiamo i cacciatori le leggende invernali le scarpe void barn fast and furious ruote incrementi tracce gem attrezzatevi per il festival snoop dog i.e. rye spice non c'è crew e pass dei fortnite bundle e offerte speciali è tutto per questo negozio oggetti ragazzi mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti